ad avvicinarti curiosamente inosservato le tue cautele nonostante il buio e tutto quanto che renda la cosa anche complicata ma riesci ad avvicinarti senza fare evidenti rumori i ragazzi li sono allegri e gioviali ok voi tre che vi avvicinate vedete vedete la scena al pieno vedete che ci sono questi due cianciosi che stanno bevendo e urlando per il gioco ci sono altre due persone che invece sono accomodate su delle stuoie stanno probabilmente tentando di riposare e poi c'è una quinta figura che è seduta al limite della luce dalla parte opposta rispetto a dove venite voi abbastanza pensosa ha un'armatura molto ben rifinita a differenza invece dei quattro tizi che gli stanno intorno e si appoggia un braccio su un'alabarda che tiene appoggiata alla spalla estremamente elegante estremamente ricca e ingioiellata come arma e è una persona un uomo sul probabilmente metà della sua quarantina la barba bianca e ben rasata e tutto quanto sicuramente lo inquadrano come uomo di un certo di un certo livello e è seduto su un sacco che praticamente gli fa da appunto da sedia e ce n'è un altro paio che tiene che tiene d'occhio e mentre lì pensoso che sta mormorando qualcosa tra sé e sé noi vediamo tutte queste cose voi vedete queste persone perché voi venite dall'ombra e potete tranquillamente vedere tutto quello che è illuminato in maniera molto molto chiara di fronte a voi allora dato che adesso vediamo bene probabilmente georg decide di cambiare piano all'improvviso perché questo significa essere un lanzi che necco allora guardo tradotto vuol dire hai visto che sono in cinque e uno pure grosso ti caghi sotto diciamo che Anselmo tu potresti riconoscere la descrizione del conte tu avevi idea di chi andavi a incontrare probabilmente ne riconosci il simbolo di casata nell'armatura ah il conte ma dunque non è nel sacco bene allora un attimo sei tutti noi lanzi Anastasia tu cosa fai? aspetti che georg elabori e ti spieghi finalmente cos'è questo piano a panaglia? sì esattamente ok quindi dici prima o poi mi spiegherà che devo fare allora io prendo resti lì accarezzando nervosalmente il cane in testa prendo il sacchetto della polvere nera un pezzo di stoffa ci metto dentro dei sassi lo chiudo lascio fuori una parte di stoffa accendo e gliela tiro addosso addosso a chi? in mezzo? tipo in mezzo? è una granata a frammentazione ok c'è il conte? no? sì però non troppo lontano fondamentalmente voglio attirare la loro attenzione ma dire ciao oltre il conte quindi loro ho capito quindi la tiri oltre il conte quindi loro vedranno questo sacchetto attraversare l'accampamento ed esplodere di là perché fa conto che la luce comunque illumina tutto quanto il cunicolo nel senso che loro sono accampati ed ingomerano i 3-4 metri del cunicolo quindi nel momento in cui la tiri di là loro vedono questo saccoccio passare a mezz'aria con la miccia accesa e probabilmente vedono te che fai le scintille a 4 metri da loro nell'ombra ah no? gliela tiro addosso e basta ma che me frega Anselmo è un po' perplesso ma quello è il conte ma allora sono nostri amici ma! e vediamo Georg fammi un tiro di agilità più che altro per riuscire ad accendere la miccia in tempo utile perché non è banale con un acciarino riuscire a fare quel che vuoi ok agilità vado wow ci spendo chiaramente l'obolo vai oh no ecco ok perfetto ti allontani un po' fai quel che devi fare e con agile colpo di polso fai una scintilla abbastanza grande da accendere la miccia e la butti in in mezzo alla mischia a questo punto loro si guardano perplessi per un attimo quelli che almeno sono sono vispi abbastanza i due che se la stanno riposando ciao per realizzare cosa succede e provano se non altro a rotolarsi per terra per evitarsi la gli evidenti effetti di quella cosa che gli è piombata in mezzo ma in verità anche Anselmo si abbassa sotto al sasso si mette le mani sopra la testa e non vuole più alzarsi ok allora il conte ok e le guardie invece sono sempre più confusa riguardo questo piano a Tenaglia che ormai è cambiato io sono sempre più confuso riguardo al piano tu dici ah il piano a Tenaglia quindi è arrivare e farli esplodere io sono confuso soprattutto alle intenzioni visto che se il conte è vivo perché lo stiamo attaccando però ovviamente non te lo posso comunicare dunque ok allora vedete che il conte che era quello più meditabondo quello forse più anche pronto presente sulla situazione perché non aveva altro da fare che star lì a ragionare su se stesso rotola sul fianco e praticamente usa un lembo del sacco che ha sotto sotto il sedere per coprirsi le spalle e la testa rotolando per terra e mentre i due che stanno giocando a carte mentre uno effettivamente riesce a tirare un mezzo urlo e buttarsi dietro uno di quelli che stavano dormendo che in pratica era lì disteso a pochi passi quell'altro è lì che stava tracannando qualcosa da bere non fa in tempo a svuotare ad abbassare il collo della bottiglia e guardarsi intorno che vede il saccoccio esplodere quindi a questo punto tirami 2 di 6 di danni ok come bomba improvvisata non posso concederti di più e no vai senza incrementi suppongo anzi aspetta fammi un tiro di lanciare perché non puoi mancarli però potresti fare un incremento e se non hai lanciare è un D4 meno 2 aspetta che vedo o sparare ma non è lanciare quindi è un D4 meno 2 D4 meno 2 qualcos'altro ok è un 11 considerato il meno 2 quindi la metti esattamente al centro dove deve stare quindi questo vuol dire che è un incremento sui danni quindi puoi tirare 3 di 6 cioè fai 2 di 6 e poi clicca su incremento ok 2 di 6 incremento si boom e sono 11 vedi quando uno col D4 fa 13 e poi fa solo 11 danni con i 2 di 6 ok allora i due uomini che erano distesi per terra e quello che con la bottiglia mezz'aria vengono dilaniati vivi ne sentite i rantoli e le viscere su vuotarsi e ne resta poco nell'arco dei pochi secondi dopo che l'esplosione avviene quello che si era rintanato dietro a uno dei due assopiti vedete che riesce a tutire buona parte del colpo più che per fortuna che non per abilità e resta lì rintronato viceversa il conte che probabilmente riesce a leggere la situazione dall'alto di un'esperienza di battaglia notevole prima rotola sul fianco facendosi scudo con il sacco dopodiché continua a rotolare sguainandola alla barda a mezz'aria in posizione di guardia verso oltre la torcia e adesso andiamo per iniziativa posso parlare come azione gratuita sì 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 però intanto io gli do le carte per vedere nell'ordine chi agisce poi magari tutti parlano però è giusto per capire che se qualcuno invece vuole agire il conte per adesso è intenzionato a rispondere a una minaccia se lui riesce ad agire per primo lui parte quindi voglio darvi le carte solo per questo ma poi possiamo tranquillamente andare a parlare quindi arcani no figure no passo di spade ok la scena è tua ok quindi il conte è rotolato si è coperto la testa e adesso è rotolato in piedi quindi di nuovo in piedi però diciamo l'iniziativa mi permette di fare una cosa prima che la faccia lui certo ok e gli scadeno contro il cane attacca bella ok perfetto e vedi una cosa più che altro che dal sacco che si è squarciato perché lui ne ha fatto scudo contro l'esplosione vedi uscire tutto quello che mancava dalla casa in particolare in questo ci sono probabilmente gli arredi della cappella e vedi uscire un paio di basamenti per i candelabri dorati e degli altri degli altri chincaglierie di valore ok beh alla fine dello scontro li prenderò fai bel tira per combattere allora allora un attimo la scheda allora un d8 e 4 scritto morso un d6 più un d4 ok ma prima vai per combattere quindi l'abilità a combattere del cane ok allora un d8 quindi dall'abilità di roll esattamente però senza il w perché lui non è un protagonista quindi lui tira solamente il d8 e basta e si tiene quel che arriva ok due ok ho perso il cane si vedi che il conte non si fa non si fa per nulla intimorire dal cane che gli arriva addosso anzi semplicemente spiana l'alabarda e di reazione anche se non è ancora il suo turno nel mentre in cui il cane si avvicina all'asta prima ancora che riesca a saltargli addosso lo attacca con con l'alabarda la parata del cane dovrebbe essere 6 quindi ok non riesce a colpirlo prova semplicemente prova a colpirlo il cane lo schiva a sua volta prova ad attaccarlo ma cominciano diciamo a danzare a distanza l'uno con l'alabarda e quell'altro ringhiando per tentare di afferrargli le gambe ok a voi reti denari per l'inquisitore ok vai che cos'hai? ah il re abbiamo capito tre no scusa diciamo che l'inquisitore avrebbe quasi pure voluto parlarci con sta gente e in un ipotetico combattimento lui vale zero quindi quello che fa lui che è rimasto più indietro di tutti visto che comunque la battaglia è cominciata e quindi non penso che ci sia bisogno di essere silenziosi o cose del genere si avvicina quanto basta per poter spiare la situazione dai da dietro una pietra credo che arrivi credo che arrivi vicino a Linardi che è perplesso quanto te ok e carte sopra il 7 carte alte quindi no 7 ok beh 7 allora ci sono io con il conte no io c'ho il 10 e allora sei tu io c'ho il 7 di bastoni dunque vai con il mio mistico 10 visto che il combattimento è entrato nel vivo cioè c'è stata un'esplosione un cane che è partito e compagnia cantante spero di poter sfruttare ulteriormente la posizione di copertura cioè che ho che ho per poco ancora e carico il conte ma senza la spada il mio intento è quello di placarlo e tirarlo per buttarlo per terra e mettermi sopra di peso ok vai è un tiro di combattere per iniziare una lotta ok se vuoi andare a come dire a a tutto a perdere puoi fare l'azione di come dire attacco selvaggio che ti darebbe un più due a tutte le azioni di attacco e i danni a costo di un meno due alla parata il che vuol dire proprio gettarsi a mischia aperta se quello è il tuo l'idea di caricare potrebbe essere questa interpretata in numeri se no è semplice attacco no 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 vado di attacco voglio solo placarlo quindi di 8 si si era per dirti che il più due sarebbe anche per iniziare una lotta è un 3 che io spendo l'obolo si io posso dirti che il 3 non ti basta per fermarlo lui è una è abbastanza vecchio ma è un vedi che è un guerriero in gamba da come sta affrontando il cane ok io comunque spendo il mio obolo e ritiro ok il 5 ancora non ti basta vai per per afferrarlo ma vedi che con un giro di alabarda la interpone in modo che se andassi avanti ti infliggeresti da solo danni sulla lama e riesce a tenerti a misura e reimpostare la distanza di combattimento che lui vuole poiché ha un'arma lunga quindi riesce a gestire il combattimento in difesa non so se spendere l'ultimo obolo a te ti serve più ti serve più di un 5 vai vado niente ok lui riesce a tenerti quindi a distanza e adesso al 7 quale dei due 7 con il bastone ti do l'iniziativa vai ok sono dietro una roccia con con Hansfried e ho dato uno sguardo veloce perché è finita l'esplosione vedo questo scontro vedo le guardie di lagnate scusa inquisitore vuoi dirmi qualcosa la sua l'espressione dell'inquisitore è di disappunto sì ma ho visto anche il sacco scoppiare con dentro l'argenteria della casa certo beh è lì svuotato per terra praticamente ed uso da bravo cauto che sono e anche perplesso a questo punto e anche umanista uso tutto il mio turno per dire all'inquisitore Van Klauser ma perché il conte deruberebbe con i suoi uomini la propria casa irritata dai morti e rimango perplesso ok tocca il conte il quale innanzitutto tenta un attacco contro il l'antichenecco vai così quindi e nel frattempo Biasica qualcosa come per l'autorità dell'impero di Francia come osate attaccarmi voi banditi spendo un obolo dei miei e ritiro ok e faccio un 9 quindi penso di colpirti sì sì ok adesso sono danni che andiamo a vedere sulla tua robustezza che sono 9 danni allora come come si calcola queste cose allora non si calcola semplicemente prendi la tua robustezza che è quanto 6 perfetto allora se faccio 6 o più ti ho reso scosso se faccio 10 o più ti ho anche fatto una ferita in questo caso sei solamente scosso perché siamo tra il 6 e il 10 ma il fatto che tipo sull'armatura mi dici armatura 1 fermo aperto armatura 3 è già considerato nel calcolo ok ok perfetto ti aumentano la robustezza che è già quella totale ok ok quindi adesso tu sei scosso lui usa questo considerando che ti ha probabilmente rincalzato indietro con l'arabarda per allontanarsi di corsa e quindi si dà si dà la fuga prende il round per correre lungo il cunicolo cosa che dà al cane un attacco gratuito per la ritirata dell'avversario quindi Anastasia se vuoi fare il cane sicuramente lo fa perché quello è il suo bersaglio si è sempre un D8 tirare il tuo D8 si provi a prenderlo prima che scapi mentre l'anzicheneco non può farlo proprio perché è scosso ok vado è lungo il cunicolo verso di noi oppure verso un ipotetico ok ok nel frattempo l'uomo che nessuno ha badato che è sopravvissuto dall'esplosione che in questo round non ha fatto altro che guardare stupefatto lo spettacolo di morte che è intorno e fino a due secondi fa stavano giocando ad Adi prende e di gran carica segue il suo il suo capitano e quindi anche lui si mette a correre lungo il cunicolo a voi mi dice che deve far l'attacco il cane no no l'ha fatto ha fatto due ah ok il cane morde l'aria e a questo punto beh puoi dirgli semplicemente di inseguirlo e a quel punto sai che il cane ricontinuerà a seguirlo finché c'è fiato il che è tanta roba oppure puoi dirgli di stare lì hai questa scelta da dargli subito se dargli il comando per seguirlo oppure digli di stare lì con te no 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 lo ritiro perché lo mando da solo quindi gli dici stai e lui sta fermo sì 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 perfetto io non mi ricordo riprendersi dallo stato scosso ti basta un tiro di spirito ah ok che ho sotto le scarpe ma comunque ci provo ok allora adesso è il nuovo round non vi do più le carte perché non mi interessa sapere più chi agisce prima chi agisce dopo ma mi interessa sapere cosa fate e soprattutto chi è scosso quindi Georg deve tirare per poter agire se no non reagisce ancora ok e io tiro non faccio niente ok praticamente sei probabilmente il colpo che hai ricevuto ti ha spostato una delle cinghie dell'armatura o cosa e ti stai mezzo soffocando sulla cinghia dell'elmo e gli altri cosa fanno in questo round sentite i piedi della del conte perdersi via via in lontananza man mano che corre verso lungo il cunicolo io frugo nel sacco vabbè non c'è poco da frugare è tutta cosa buona ok e anche gli altri qualcosa di piccolo che posso portare certo fai comunque selezioni di buona ricchezza con passo svelto non correndo perché alla sua veneranda età non è troppo in forma per fare ma comunque con passo accelerato cerca di andare a prendere quel conte e cercare di parlarli aspetta inquisitore aspetta prima che tu vai visto che nessuno lo sta inseguendo tranne te fa mentre ti stai per alzare per correre dietro Anselmo fa inquisitore una persona con la coscienza pulita non scappa volete che lo fermo perché posso tagliargli la strada e indico il mortaio l'inquisitore risponde lo avete sentito sta scappando dai banditi cioè noi abbiamo già abbastanza torto evitiamo altra violenza ok allora allora si carica semplicemente sotto spalla il mortaio e non lo fa scattare posso chiedere del conto ha lasciato qualcosa lì nel precedente nell'accampamento qualcosa del tipo una coperta il mantello in cui si è avvolto l'ha lasciato lì ha lasciato praticamente tutto quindi sì probabilmente anche oggetti personali ok quindi posso prenderne uno e portarlo con me anche un pezzo di stoffo o qualsiasi cosa per farlo dorare al cane eventualmente sì 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 guarda lui si è alzato com'era ed è scappato via è sicuramente una casacca pesante un qualche vestito invernale e roba del genere se li era tolti perché qua sotto in miniera è relativamente un po' più caldo che non fuori e adesso è rimasto tutto quanto lì ok prendo un vestito qualsiasi bene allora Georg tu ci vuole un attimo per riprenderti poi comunque insomma ti riprendi nel frattempo l'inquisitore si è messo con passo svelto a via via camminare lungo la miniera avete comunque una sola fonte di luce quindi bene o male dovete posso fare posso fare una cosa visto che voglio voglio alla fine abilitare l'inquisitore a fare il suo lavoro e prendo dalla mia borsetta dove c'ho anche le bombette prendo una boccetta di spirito e gliela passo e gli dico annusatelo vi farà vi farà vi renderà più facile raggiungere il vostro obiettivo ed è una una fialetta che per tre round raddoppia il passo quindi in pratica è come se corressi senza correre cammini molto veloce sì anzi ne prendo una anche io e ci diamo all'inseguimento visto che gli altri due elementi del gruppo che sono giustamente stati identificati come banditi sono occupati a depredare e forse adesso che hanno avuto il loro bottino forse ci possiamo parlare con questo conte semplicemente lo inseguiamo noi che siamo doppio veloci adesso allora ora che tiri fuori queste boccette e riuscite a organizzare la scena e vi ci vuole un po' di tempo voi adesso potete prendere la lanterna visto che comunque l'accampamento di dove era il conte ne aveva già una posizionata per terra che illuminava tutta la scena e quando vi incamminate lungo il lungo il quel che resta della miniera cominciate via via a sentire l'aria dell'esterno che non deve essere molto lontana da voi quando di colpo il silenzio viene orridamente interrotto da una un urlo che ha un chiedi disumano che parte a pieni polmoni nel quale potete riconoscere la voce del conte che però via via si disfa in una nota acuta innaturale che persiste nell'aria anche un attimo dopo che in realtà ha smesso in un silenzio macabro mentre tutto questo succede mentre questo urlo si protrae nell'aria sentite un botto secco violento assommarsi a questo a questo urlo e quando arrivate a vedere la luce che proviene dall'esterno quindi il profilo della grotta che si dà sul fianco della valle abbaccinante perché tutto quanto bianco di neve e di luce vedete delle ombre stagliarsi sul fondo è l'ombra di un uomo che probabilmente tiene in mano uno strano fucile o un mortaio di qualche tipo ancora fumante e poi c'è un'altra cosa che veramente non sapete dire sembrano due persone molto vicine le quattro gambe sono innaturalmente vicine per essere quelle di due persone affiancate ma soprattutto vedete che questa cosa sta tenendo in mano una figura che ha da poco smesso di calciare l'aria tenendola alta per il collo sospesa da terra